Io sono nativo di Finale Ligure e a scuola non ero tanto portato, per niente la seconda, superiore mi hanno bocciato, allora ho scelto il mondo del lavoro e ho fatto domanda alla piaggia di assunzione e sono stato assunto, però il mio ricordo è che quando ero bambino andavo a spiaggia vicino a sopra di me della piaggia e vedevo sempre un velivolo che usciva dall'hangar, lo trainavano degli operai, lo mettevano sotto una gru, la gru lo sollevava, lo metteva in mare e questo era il P136 idrovolante, poi un motoscafo lo portava a pari metri fuori dalla battigia e cominciava a fare i primi voli, i primi collaudi e quello mi ha sempre entusiasmato, quando ho avuto la possibilità e anche la fortuna di entrare alla piaggia, la mia mente, il mio pensiero era andare a lavorare sul velivolo, su quello che da bambino ci ho fantasticato, purtroppo la realtà non è stata così, non è stata tanto bella, perché sono entrata alla piaggia e mi hanno messo a fare il tornitore, ossia sono entrato non un hangar, ma sono entrato in una sala macchine che c'erano torni, frese, rettifiche e per 8 anni ho fatto il tornitore, io sono entrato a 15 anni alla piaggia, però ho dovuto ritornare a fare un corso sarale per conoscere il disegno, per poterlo conoscere e leggerlo, per conoscere le strumentazioni di strumenti di lavoro e il corso è durato 6 mesi, poi ci hanno affiancato a un tornitore più anziano che ci insegnava tutte le malizie immaginabili per poter cercare di lavorare bene, non tutti i lavori però venivano bene, diciamo che qualche volta qualche rimprovero c'è stato, dopo 8 anni sono andato, ho cambiato reparto, sono andato a fare il tornitore in lastra che era in manutenzione, eravamo in due, la tornitura una lastra è la tornitura del velivolo, della carpenteria, perché si forma da un disco di lamiera, si formava le ogive, le centine, le ordinate, le boccole, variati pezzi che andavano poi montati sul velivolo e anche sul motore, poi sto tornino in lastra ha girovagato un po' per il reparto della piaggia, diciamo che ho conosciuto bene bene più di un ambiente nel reparto della piaggia, sono stato finché poi non sono andato in pensione. Quando io sono stato a fare il tornitore in lastra, diciamo che quello che faceva il tornitore in lastra era un mio coetaneo e abbiamo cominciato, lui era già un po' di tempo che lo faceva e devo dire la verità, mi ha insegnato veramente a fare il tornitore in lastra e siamo in tutta la piaggia, eravamo solamente in due, dunque oltretutto potevamo fare anche i turni, ossia uno andava a lavorare al pomeriggio, l'altro andava a lavorare alla mattina, avevamo sempre mezza giornata lì, ma l'estate era tanta manna, facevamo i turni perché il tornitore in lastra era uno e allora facevamo i turni, sì che avevamo anche dei turni tradizionali che c'erano anche delle altre lavorazioni, facevamo le lavorazioni normali, tradizionali, però normalmente la lavorazione maggiore era quella del tornitore in lastra, perché come ripeto c'erano tanti particolari, il lavoro del tornio in lastra piaceva perché era un lavoro che da un pezzo di lamiera con un semplice mandrino, delle volte anche fatte di legno, ricevamo a fare dei particolari che poi venivano montati sull'aereo, il tornio in lastra era un tornio tradizionale, noi ci legavamo con una cinghia attaccata al tornio, poi con un bronitore così chiamato, era un bastone di legno con un utensile e noi formavamo la lamiera, come si può fare come fanno i vasi, i ceramisti e dunque era un lavoro che diventavamo l'operatore e la macchina un corpo unico perché automaticamente ci erano legati e quello personalmente dava soddisfazione, perché poi è un lavoro che purtroppo è stato soppresso perché poi sono intervenute le presse, sono avute un'altra lavorazione e quel lavoro lì purtroppo non esiste più, però la pioggia eravamo in due, quello facevamo, operavamo materiali come l'inossidabile, come il bronzo e svariati spessori, dei 5 decimi arrivano ai 2 mm perché c'erano dei particolari che devono essere fatti di lamiera che erano molto più leggeri e in più mentre la pressa, la molecola, il materiale lo stira, mentre noi con la lavorazione intorno all'altra riuscivamo il materiale a farlo correre, a trasportarlo e che lo spessore non diminuiva, certo che se lo spessore è di un decimo, noi avevamo la toleranza del 10%, se andavamo sotto il 10% il collaudo lo buttava via e dovevamo rifare il pezzo. Il ciclo doveva il ciclo, dove c'era legato il tipo di materiale che dovevamo produrre, il particolare dovevamo produrre e i pezzi dovevamo produrre, poi avevamo l'archivio, andavamo in archivio a prendere i disegni e facevamo i particolari a disegno, ci arrivava tutto, il prelevatore ci portava il materiale, il capo squadra ci portava il ciclo di lavoro e da quello noi facevamo, poi quando finivamo i pezzi li mandavamo in galvanica, c'era il decappaggio, c'erano tante lavorazioni e poi andavano al collaudo, i primi collaudatori eravamo noi perché automaticamente facendo il pezzo pensavamo di farlo ben preciso, però dalle volte ci poteva essere quella piccola imperfezione e essendo un'aeronautica veniva scartato, tutti erano particolari che erano a centesimo, erano anche a decimo, non è che erano un lavoro grossolano, era un lavoro molto fine, molto importante diciamo. Allora, lo così chiamato spaccio era una cooperativa gestita dagli operai e dalla Piaggio che a sua volta avrebbero dovuto, a turno, tutti dare una mano allo spaccio, ma purtroppo in quel campolino era data buon fine, perché non tutti andavano a dare una mano a quando c'era da scaricare, a quando c'era da mettere a posto la roba, così cosa ho dovuto fare allo spaccio? Assumere due persone e poi assumendo delle persone, poi diciamo che la pigrizia di andare nel negozio dentro il finale c'erano ancora, allora non andava allo spaccio a comprare, piano piano allo spaccio è andato in declino. C'erano cose alimentari, i vestiari non morivano, ma io diciamo che sono uno dei pochi, uno dei tanti che non ci andava, ci andavo poco insomma. Per me voleva dire cinque minuti e riuscire ad andare a lavorare a piedi e penso che era un lusso, poi dalle volte andavamo in bicicletta, ma dalle volte ce la pigliavamo anche, è cosiddetto quando eravamo in ritardo, anche di un minuto dovevamo timbrare, nonostante che eravamo lavoro, eravamo sotto casa, arrivavamo anche in ritardo, eravamo giovani. Il discorso è che lavorando in aeronautica c'è una precisione che in tante altre fabbriche, in altre lavorazioni non esiste. A catena di montaggio noi non sapevamo proprio cos'era, il rapporto con i capi, con gli ingegneri, con gli operai era un rapporto familiare, era veramente un bel rapporto, è logico, se facevi qualcosa andava bene, i rimproveri c'erano, racconto un particolare, quando uno prendeva un rimprovero un po' pesante, i colleghi e non ti accorgevi che poteva essere, ti metteva un cestino con dei gusci di uova per farti capire che avevi preso le cosiddette uova, la romanzina e noi per noi quando uno era rimproverato il detto era prendi delle uova, per esempio io mi ricordo un particolare che quando sono entrato alla piaggia non è che meccanica fossi tanto tanto esperto, per esempio rompevi una punta, c'era il capo, il capo squadra o quello che ti aveva messo che doveva insegnarti, ti insegnava a non romperne più e quella era una cosa che era una cosa bella, perché a un giovane, l'anziano cercava di insegnargli tutti i trucchi della lavorazione, sempre lavorare meglio, poi nonostante che noi siamo andati a scuola, abbiamo imparato a conoscere gli strumenti di misurazione, poi c'era anche una tabella piaggistica, per esempio per la tornitura quando uno doveva fare svelte, levare tanto materiale, ti dicevano dacci una passata, proprio il centesimo dacci una leccata, essi erano quei termini che erano anche belli, perché uno senza dire levaci un centesimo, levaci due millimetri, levaci quattro decimi, c'era un detto che tra i tornitori era una cosa riconosciuta, no no ci sono stati dei, almeno per me ho avuto veramente dei bei ricordi, l'unica cosa che a me dispiace è che ho fatto tanti particolari per i valivoli della piaggio e non ho mai volato su un valivolo della piaggio, quello mi dispiace. Quelli che non potevano entrare, che erano fuori, allora forse, allora dicevano che piagge farò via quel proverbio lì, ma quelli che erano fuori, non quelli che erano dentro, perché apparecchi uscivano, dunque vuol dire che se gli apparecchi uscivano qualche d'uno lavorava, perché noi pioveva o c'era il sole, faceva freddo, eravamo a riparo, qualche d'uno purtroppo con altre lavorazioni era all'aperto. Penso che la piaggio era un piccolo anello della comunità finalese, però era un anello che teneva una catena, sospizzato, e adesso non so, le prospettive di finale con il lavoro, con la piaggio per i giovani. Dove c'è l'hangar farei una fabbrica della piaggio, l'hangar la lascerei intatta, la lascerei con me, la gru ormai non c'è più che è stata levata, però l'hangar, il cosiddetto cappello del carabiniere, farci veramente un bel museo sarebbe la cosa ideale e penso che avrebbe piacere tutti i finalesi, quello sì, però poi edificare l'aria com'è, quello non sono in grado di portarlo via. Grazie a tutti. Grazie a tutti.